Ciao a tutti, bentornati sul canale. Allora, oggi andiamo a vedere una nuova collaborazione che inizia grazie a JM Bricklayer, che praticamente mi ha inviato questa confezione contenente un modello che in pratica è un 3 in 1, che ci permetterà di realizzare tre modelli militari medievali. Sono delle specie di catapulte che potremo chiaramente utilizzare nei vari set che abbiamo. Non è chiaramente un Lego originale, ma sicuramente la qualità dei pezzi è comunque molto alta. In descrizione trovate uno sconto del 15% che potete utilizzare per acquistare questo prodotto, quindi adesso lo unboxiamo insieme e andiamo a vedere come si compongono queste tre versioni. Ok, quindi JM Bricklayer, come potete vedere abbiamo questo Civilization Medieval Times, abbiamo Remarkable Ancient Machine, il numero del set è il 30.001 e sono 568 pezzi. Come vi dicevo prima, è un 3 in 1 adatto dagli 8 anni in su. Non ci sono altre cose sulla scatola per cui possiamo vedere cosa c'è all'interno. Chiaramente abbiamo le varie bustine con i pezzi e soprattutto abbiamo le istruzioni, quindi abbiamo le varie fasi di montaggio che ci permettono di costruire tutte e tre le versioni di questi modelli. Guardate che belle che sono le ruote, quindi nonostante non sia un Lego originale, i pezzi mi sembrano assolutamente validi. Abbiamo le bustine numerate, adesso non ho capito ancora bene diciamo quale ordine c'è, nel senso che quello che non ho capito è se diciamo dobbiamo aprire comunque tutto, oppure per fare i tre modelli abbiamo tipo dalla numero 1 alla numero 3 o numero 4 e poi gli altri modelli sono con le altre buste, oppure no. Questo lo scoprirò man mano che faccio, man mano che monto e chiaramente non vi sto ad annoiare con il timelapse ma vi mostrerò direttamente la versione finale. Allora eccoci qui con il modello principale montato, questo è una confezione 3 in 1 però io mi limito a montare diciamo il modello principale che poi è quello che occupa più pezzi in assoluto e come potete vedere è veramente bello. Chiaramente questa è una catapulta funzionante, possiamo azionarla, adesso con una mano non so se ci riesco senza distruggere tutto, ma in pratica ecco abbiamo azionato il meccanismo e poi se io faccio così mi lancia il pezzetto che è sempre di lego ma quelli morbidi fondamentalmente e quindi non possiamo andare a fare danni. Per quanto riguarda diciamo una vera e propria recensione a livello di materiali, allora che dire chiaramente non sono lego quindi diciamo che la qualità è un pochino inferiore, gli incastri sono comunque buoni anche qui a livello di meccanismo e i pezzi tra virgolette technic sono diciamo carini come qualità ma è ovvio che si sente la differenza con l'incastro professionale dei lego veri. Diciamo che poi gli altri due modelli che sono presenti qui nel libretto sono sempre simili come abbiamo visto perché abbiamo la possibilità di creare altre due macchine sempre che lanciano cose. Possiamo anche costruire il bersaglio che in effetti non ho fatto ma insomma possiamo divertirci a colpire qualsiasi cosa vogliamo fondamentalmente anche perché come vi ho detto non è non è pericoloso perché è un pezzo morbido. Per quanto riguarda diciamo se ne vale la pena o no chiaramente ne può valere la pena nel momento in cui questo prodotto si trova solo realizzato da questo produttore quindi siccome non mi risulta che esista niente di lego originale di questo tipo sicuramente ne vale la pena. Che dire quindi sicuramente è un buon prodotto nel senso che è difficile trovare cose del genere con i veri lego quindi quando mi propongono dei prodotti di questo tipo con diciamo di brand non originali di solito accetto con molta curiosità perché appunto mi piace vedere come questi mattoncini hanno influenzato praticamente il mondo intero. Diciamo che come vi ho detto prima in questo caso specifico ci troviamo di fronte ad un buon prodotto mentre molte volte capitano incastri che non sono veramente all'altezza quindi non validi però in questo caso sono piacevolmente soddisfatto. Era un brand che non conoscevo che vi ricordo GM Bricklayer quindi sicuramente potete dargli un'occhiata vi lascio ovviamente i link in descrizione come detto all'inizio quindi potete sicuramente vedere cosa propongono ma devo dire che se il buongiorno si vede dal mattino sicuramente saranno in grado di farci avere tante altre cose molto interessanti anche perché dalla scatola non sembrava così grande questo prodotto invece come potete vedere è sicuramente degno di nota insomma paragonando come al solito con la mano insomma è bello grande adesso qui ho un metro vediamo un po' è circa 25 centimetri lungo quindi insomma è piuttosto grande. Detto ciò a questo punto fatemi sapere nei commenti qui sotto se vi è piaciuto questo modello specifico quindi vi chiedo il solito pollice in su e vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanellina così da non perdere nessuno dei miei prossimi video ora vi saluto e ci vediamo molto presto nei prossimi giorni ciao